salve sono il dottor doga e oggi curerò la vostra ignoranza sigla ciao ragazzi bentornati sul canale buon carnevale a tutti un carnevale davvero particolare vabbè a parte insomma riferimenti a malattie varie ed eventuali è arrivato lezza di vegeto blu fisico in anteprima sul global e parliamo un attimino di questo pg che insomma qualcuno come al solito se non vede i numeri non capisce però il pg è palesemente rotto a parte insomma la leader però insomma capisco capisco il perché di questo leader vi spiegherò anche il mio parere parliamone subito allora innanzitutto per portarlo ad ezza molto semplice e debole al time favers e extreme str quindi insomma veramente easy cosa diventa diventa leader generico per i super più 4 chi e stats a 80 per poteva essere di più sì perché 80 per 100 perché il pg è così rotto a mia parere che se fosse stato anche solo 100 per cento penso che chiunque avrebbe scelto sempre lui come amico pur avendone uno in team per giocarne due fissi e chiudere qualsiasi evento a botta di additional e counter cosa che potete fare tranquillamente anche con le stats 80 per cento però sai con le stats 80 per cento è un attimino più contenuto soprattutto il tanking mentre invece fosse stato un pochino più alto non stava né in ciro né in terra invece così insomma pulito fa il suo dovere bello p con la special finalmente gli hanno aggiunto un bel effetto e gli hanno dato il grit resist attacca e defense per un solo turno che è un boost del 50 per cento all'attacco e alla difesa perché per un solo turno perché questo signore comunque mantiene quella bellissima possibilità di poter fare due additional special escludendo insomma quello del dell'abiti quindi teoricamente pure quattro special in un turno quindi mi sembra più che ragionevole dagli un grit resist anzi forse grit li sono stati anche fin troppo buoni perché 50 per cento per un solo turno quindi ci sta alla grande poi insomma vedremo nei giorni da venire magari testandolo in qualche live anche se ho già visto i danni che fa la passiva cosa diventa un iniziale attacca e difesa 40 per cento inizio del turno era esattamente come ce lo aspettiamo tanti di noi il resto della passiva insomma è molto simile alla sua versione precedente alta chance anzi grande chance di lanciare due additional di cui il primo è garantito con 25 per cento di possibilità che siano delle special quindi hanno anche migliorato la possibilità che sia special prima era soltanto 10 per cento ora è 25 inoltre c'ha la riduzione del danno del 40 per cento agli attacchi fisici questo lo rende un tank assurdo perché comunque abbiamo delle stats iniziali 40 per cento di debuff di riduzione perdonate abbiamo il grit resist defense nella special quindi il pg tank a qualsiasi cosa a livello di pugni se la cava bene anche con le special se ne lancio più di una e signore e signori countera countera come un animale e finalmente abbiamo un pg che non sia reggito lr che carica dei bei counter belli potenti chiaramente a seconda del numero di special che farà può caricare pure un counter di un milione caricare perché se è critta il milione e mezzo lo fa facile link sono i quelli che avevo anche prima c'è di buono insomma che tiene sia ore in flash che per for battle questo lo fa linkare con il mondo soprattutto è il miglior linker della lr quella int non ha insomma in realtà non linka bene pure con quella nuova però ne parleremo poi quando arriverà la lr nuova anche sul globo come busto offensivi comunque abbiamo super saian e fierce battle che sono quelli la a percentuali che non ci leva nessuno poi insomma ci sono quelli la di valore flat che chissà se un giorno mai li modificheranno che sono camma e power by street by god che lo fa linkare bene insomma si comporta egregiamente il pg le categori sono realm of god potara futursaga time traders camma e last resort quindi comunque ritornando al discorso e nonostante sia soltanto un 80 per cento di stats come leader abbiamo un bel sub leader però ognuna di questa categoria sub leader però inteso per almeno i pg super e stats ad ezza a full abiti sono 18.061 di hp 19.137 di attacco e 10.194 di difesa una bella bestiola soprattutto per il lato offensivo ad abiti free insomma pecca ma con si comporta comunque benissimo abbiamo un 14.661 di hp 16.137 di attacco 7.590 watt difesa è il classico il budget fisico ragazzi è un pg che merita e necessita l'ability e adesso vi do un brevissimo parere su come comportarsi con questo pg in game abbiamo un lr è free to play è bella grossa si gioca ancora benissimo in tutti i team è ottima in qualsiasi evento tanca pure nelle rival quindi lr sta lì nessuno ce la tocca ed è un pg solido abbiamo il tech pg che comunque rispetto a questo nonostante non faccia i counter c'ha comunque i suoi additional però c'è il resist a effetto kaioken quindi nonostante attualmente questo reggito fisico a per il mio lo supera quello te quello te può sempre dire la sua grazie al kaioken quindi nelle battaglie lunghe quello tec se ce l'avete da beati ancora ancora dice la sua questo fisico a mani bassi adesso è senz'altro il miglior vedget blu che sia già vedget blu senza contare la lr che può uscire all'anniversario dico senza contare perché quella comunque parte da base sono due pg che si possono giocare insieme quindi diversi se avete questo pg full ability buon divertimento veramente una bestia tra l'altro se ce l'avete full ability finché non esce la lr e l'anniversario consiglio d'amico potreste potreste riversare la lr a tour così ve lo giocate insieme e vi fate un bel animale di tanking anche a tour da poter giochicchiare in altri team così almeno non la parcheggiate per sempre la lr se invece non ce l'avete oppure l'avete ability free non sprecate coin perché comunque avete ancora la lr lì potreste comunque possedere il tech e questo pg tornerà in rate up proprio all'anniversario quindi non pollate nella baccezza non sprecate i coni per comprarlo resistete al vostro impulso maniaco e aspettate l'anniversario se non lo possedete o se lo avete soltanto abiti free godetevi le stone che riuscite a raccimolare più possibile per l'anniversario o se volete per cooler insomma e rimane comunque il miglior tour del gioco cooler attualmente anche se io mi sono già deciso che non ci pullerò per un fatto di principio c'è proprio sono sono certo che se pullo da cooler troverò cooler fisico di nuovo quindi preferisco io non aggiungo altro ragazzi non vi resta veramente che provarlo questo pg per rendervi conto di che robaccia cioè carica una cosa come 2 milioni alla prima special poi chiaramente si busta man mano in quelle due tre additional che riesce a fare nel migliore dei casi può caricare pure una roba come 3 milioni e mezzo quindi veramente veramente grosso in un turno fa un tantissimi danni perché può può lanciare 4 additional special i counter sono grossi veramente un bellissimo pg un bellissimo e soprattutto ma dobbiamo vedere come si comportano con rosea gl quindi mi auguro mi auguro che nonostante insomma è abbastanza palese che non sarà a livello mi auguro che lo pompino abbastanza da renderlo decente sappiamo già che probabilmente sarà leader extreme 80% quello sicuramente ma vediamo un po' vediamo un po' aspetto con ansia anche rosea vabbè ragazzi questo è tutto noi ci vediamo in un live appena posto perché ultimamente sono molto impegnato adesso vado a divertirmi perché è carnevale ciao ciao